Torna a parlare Antonella Panarello, la sorella di Veronica, quella che mai ha fatto mistero dei rapporti mai teneri tra loro. Ancora una volta ha detto che secondo lei Veronica può essere l'assassina del figlio, ma che probabilmente non ha fatto tutto da sola. In una intervista rilasciata ieri sera alla trasmissione di Rai3 di chi l'ha visto, aggrava la posizione di Veronica. Nei verbali della procura la sua testimonianza ha una certa rilevanza. Ho un mio pensiero, ma rimane un mio pensiero. Beh, stai, non lo dici. Una cosa magari ripetuta, che questo bambino potesse vedere delle cose, una volta, due volte, tre volte, e poi è potuto succedere quello che è successo. Ci sono stati degli alti e dei bassi. E anche quando Davide aveva scoperto che Veronica lo avesse tradito. Questo quando? Lloris aveva quattro mesi, nel 2006 è successo, dicembre 2006. E però Davide l'aveva perdonata? L'aveva perdonata. Lloris aveva perdonata.